I carabinieri hanno denunciato un 46enne e un 63enne, entrambi di Santa Maria di Licodia, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. La notte scorsa i militari sono intervenuti lungo la provinciale Paternò Belpasso dopo la segnalazione di danneggiamento e furto di denaro dalla cassa automatica di un distributore di carburanti che è sulla provinciale. Le indagini, tuttora in corso per identificare gli autori del danneggiamento e del furto nella stazione di rifornimento, hanno nel frattempo consentito di identificare i due licodiesi che, giunti poco prima dell'arrivo dei militari ma dopo la spaccata, avevano pensato male di verificare l'eventuale rimanenza di denaro nella cassa automatica danneggiata. Si sono così fiondati sulla colonnina e, dopo aver rovistato, sono riusciti a impossessarsi delle banconote non prese da chi aveva portato a termine l'azione criminale. L'improvvisato prelievo di contanti da parte dei due però non è passato inosservato all'occhio delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'area di servizio che li ha immortalati e messi a disposizione dei carabinieri. Per loro è scattata la denuncia a piede libero.